La pace del Signore si è condutti noi. Un saluto da Alfredo Angelo Piccone e un buon mercoledì a tutti quanti. Un saluto da Alfredo Angelo. 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 sentite amante e salite ripien floretti amene bene miei cari nella grazia vi ricordo che l'unico segreto in questo mondo è amare il prossimo ma non amarlo così tanto per dire di amo e basta amarlo il prossimo con tutto se stesso, con tutta l'anima questo è il grande segreto di questo mondo che Dio ha tralasciato dall'inizio dei tempi fino adesso quando si ama qualcuno quest'amore viene corrisposto automaticamente con tutta l'anima ok l'anima attrappi Ecco il messaggio completo di stamattina. Ecco il messaggio. Ecco il messaggio. Ecco il messaggio. Ecco il messaggio. Dio, amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu hai fatto e che farai ancora. Grazie Padre per quello che tu veramente ci hai donato. Ancora benedicici tutti insieme come una grande famiglia perché siamo il tuo popolo. Abbiamo ascoltato la tua parola, abbiamo ascoltato tutto ciò che tu vuoi farci capire, Signore. Se ancora manca qualcosa, Signore, donacelo, Signore, per poter venire ancora più profondamente a te, Signore. Se ancora c'è qualcosa che ci impedisce, Signore, di venire a te completamente, Signore, illumina il cammino, Signore, che possiamo far pulizia da ogni evento negativo, da ogni cosa che ci trattiene tra la tua persona e noi, Signore. Perché vogliamo stare al tuo cospetto, Signore, fai cadere quel velo, Signore, che ci trattiene lontano da te, perché vogliamo essere vicino a te, Signore. Buon notte e giorno, Signore. Vogliamo gustare la tua presenza, Signore. Grazie, Padre. Oh, buon Padre Celeste, stamattina ti voglio presentare ancora tutto il tuo popolo, Signore. Ti voglio presentare ancora tutto il tuo popolo, Signore, in preghiera, Signore. Se c'è ancora qualcuno che in questo momento ha bisogno, Signore, stende la tua mano potente su di loro, Signore. E benedicile, Signore, perché vogliamo veramente che tu benedici tutto il mondo intero, tutto l'universo, Signore. Gloria a te, Signore. Stamattina, più che mai, Signore, ti chiediamo perdono se abbiamo sbagliato anticipatamente, Signore. Benedici, Signore, nell'amore, nella pace, nella tranquillità, nella felicità, nell'abbondanza. Signore, che tutto proceda secondo la tua volontà, secondo la tua predisposizione. Grazie, Padre. Ancora oggi, Signore, vogliamo veramente portare il nostro cuore a te, completo. Grazie, Padre. Benedici attraverso il tuo figliolo, Signore. Che possa questa mattina, Signore, sentire veramente la gioia del tuo cuore dentro di me e anche i miei fratelli, sentire la tua presenza, Signore. Mie fratelli, sorelle, amici e anche i nemici, se ce ne sono ancora qualcuno, Signore, ti prego che possano avvicinarsi ancora una volta meglio dei miei amici, Signore. Perché quest'amore possa essere ricambiato, Signore, che sto mandando per effetto, Signore, in tutto l'universo. Gloria a te, Signore. Alleluia, Signore. Gloria a tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio, Padre. Ancora benedici le nostre famiglie, Signore. Tutte quanti, Signore. Da più piccola a più grande, Signore. Benedici ancora mia moglie, Signore. Benedici ancora i miei figli, Signore. Benedici ancora il mio amore. Benedici ancora il mio genere. Benedici ancora i miei nipotini, Signore. Benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici, i miei consuoceri, sia quelli che sono in Sicilia che questi che sono qui in Germania. Gloria a te, Signore. Alleluia, Signore. Se rimedico a qualcuno, Signore, te li presento davanti a te, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria a tuo nome, Signore. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù. Che tu vai bene e sento, in eterno. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Amen, miei cari, nella grazia. Gloria a tuo nome, Signore. Com'è bello stare questi pochi minuti alla presenza del Signore. E questa è una grande cosa che il Signore ci dà e ci fa vivere nell'abbondanza, nella gioia, nella felicità. Ancora, miei cari, nella grazia, se ancora qualcuno non mi conosce, può digitare il mio sito, ve lo faccio vedere. E questo è il mio sito, Gesù, la luce del mondo, punto it, gu, 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 punto, Gesù, la luce del mondo, punto it. Sto andando in effizioni, in verbo. Lo chiudo subito perché parte l'audio subito. Lo state vedendo. Entrando in questo sito troverete migliaia di siti all'interno. Ogni foto, ogni link è un sito. Che il Signore vi possa benedire nell'amore e nella grazia. Amen. Gloria a Dio. Vi saluto nella pace del Signore con un abbraccio come faccio sempre. E un bacio. Dove. Addio volendo, ci sentiremo più tardi. Amen.